Penso che al di là di quello che è di Raffini l'incontro di oggi manifesta in maniera evidente l'errore grossolano commesso da Berlusconi nel tentare l'uccisione politica del Presidente della Camera e nell'espellerlo dal Popolo della Libertà. Abbiamo progetti più ambiziosi che l'appoggio esterno, credo che domani fine andrà molto oltre.